... Bentornati cari telespettatori di FanoTV, questa è la Rassegna Stampa, un commento alla stampa del giorno, ai giornali, i giornali che abbiamo preparato anche questa mattina per voi, che ci seguite tutte le mattine in diretta alle 7 sul canale 17 di FanoTV. Andiamo a vedere però prima il santo e poi il tempo, anche se sul tempo c'è poco da dire. Oggi è Sant'Etelberto, il sole è sorto alle 6.55 e tramonterà alle 17.52. Scoppia la primavera, scoppia la primavera sull'Italia con un super anticiclone, ecco quanto durerà. La titola trebimeteo.com, possibili novità poi nei primi giorni di marzo con gli aggiornamenti ovviamente, ma vedete già la grafica con questa cartina dell'Europa, dell'Italia al centro, con le temperature che saliranno, arriveranno intorno ai 20 gradi, insomma, quindi davvero una primavera anticipata. Iniziamo con i giornali. Allora, Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, al Monaldi, dove si fanno i vaccini, fase 2 con i docenti, quindi tocca agli insegnanti. Dalla prossima settimana il centro, che ospita le vaccinazioni attualmente per chi ha più di 80 anni, accoglierà il personale scolastico. Per quanto riguarda i test rapidi, invece, lo screening fa il BIS. Si sta pensando ad una nuova campagna per fare i test antigenici rapidi nelle superiori e apertura alle scuole medie. Mentre a centropagina la fotonotizia è per un incontro tra Anas e il comune di Pesaro sulle Siligate. Si cerca la breccia nel muro. Sotto la scuola li sospende, gli studenti più ribelli si scoprono volontari. Poi la rissa tra bande di minori finisce tra coltelli e rapina. E io fanese nel Congo, dove hanno ucciso l'ambasciatore San Benedetto, l'ex ospedale psichiatrico a Pesaro, si è a recupero e con una strategia condivisa. Come portare avanti la riqualificazione del complesso, la questione dei fondi europei che vanno intercettati. E poi un flash mob pieno di luci per i teatri ancora chiusi. Ma c'è un'analisi che il Corriere pubblica qui di spalla. In prima, effetto scuola in classe più del 50% dei contagi. Quanto spinge l'effetto scuola sulla curva dell'epidemia? Secondo i dati dell'osservatorio, rispetto all'ultima settimana di gennaio, quando ancora non si sentiva l'effetto della riappertura delle scuole superiori al 50%, l'incremento dei casi accertati era poco, era basso. Oggi invece è salito e siamo addirittura al 53%. Dunque il problema dei contagi a scuola adesso si fa sentire. Andiamo a vedere adesso invece il Carlino di Pesaro. Tamponi rapidi a scuola, arriva il BIS. La Regione dice no, a marzo il Comune di Pesaro farà di nuovo da solo e saranno coinvolti agli istituti comprensivi. A centro pagina invece la notizia, o meglio la previsione dell'assessore Saltamartini, l'assessore regionale della sanità. Immunità di gregge entro giugno. E insomma, detta così, lascia ben sperare. Se arrivano le dosi, dice Saltamartini, il 60% dei marchigiani sarà vaccinato. Le altre notizie. Il padre dà le regole, la madre accudisce. È bufera su ciccioli. Nel mirino il consigliere di Fratelli d'Italia. Poi il nodo del New Jersey, caso Siligate, incontro Anas Comune. La cronaca, pena di tre anni per lo spacciatore che rapina il baby cliente che non paga la droga, condannato, poi la verifica. Studenti sugli autobus extraurbani dicono ok, ma sugli altri c'è troppa gente. Poi la novità, dagli dosi agli over 80, la prenotazione adesso si può fare anche con il postino. Per i nuovi letti di terapia intensiva invece bisogna aspettare la primavera, così nella regione Marche. Bene soltanto Pesaro che invece ha centrato già l'obiettivo. San Bartolo, terra di nessuno. Più controlli, c'è la polemica, associazioni ambientaliste all'attacco. Nessun rispetto delle regole, così non va. Vi mostro i sì più esclusivi del mondo. A Fano, nella pagina di Fano del Carlino di oggi, Roberta Facchini, 33 anni, fotografa i matrimoni dei VIP in location da sogno. E allora, cominciamo e diamo un'occhiata ai giornali. A pagina 3 del resto del Carlino vi segnalo questa notizia che riguarda appunto le dichiarazioni di Salta Martini. Anna Marchetti scrive sul Carlino di questa immunità di gregge che, se tutto andrà con la consegna soprattutto dei vaccini, così come da programma, questa immunità di gregge i marchigiani potrebbero raggiungerla entro il mese di giugno. Il che, insomma, non è poi così male. Ma le terapie intensive arrivano poco prima. L'assessore Salta Martini fa il punto sui posti letto. Quelli in più previsti dal decreto Arcuri sono stati attivati per tempo soltanto a Marche Nord, soltanto a Pesero. Dunque, immunità di gregge per i marchigiani entro giugno, mentre si dovrà aspettare aprile per il completamento delle postazioni di terapia intensiva destinata alla Regione, anche se Marche Nord si è già dotata di tutti i posti che le erano stati assegnati. È questo il quadro disegnato dall'assessore Salta Martini impegnato nella campagna vaccinale. Se ci saranno fornite le dosi a sicura, potremmo raggiungerle in immunità di gregge per i marchigiani entro giugno. Questo significa aver vaccinato il 60% dei cittadini di questa Regione, pari a 600.000 marchigiani. Stiamo completando la vaccinazione del personale sanitario e dell'RSA, mentre sabato abbiamo iniziato con gli over 80 e dal 1 di marzo partiremo con il personale delle scuole e dei servizi pubblici essenziali. Poi sarà la volta dei disabili e della popolazione tra i 60 e gli 80 anni. Pesa l'effetto scuola, più del 50% dei contagi avvenuti in classe, titola il Corriere Adriatico questa mattina. A fabbraio c'è stata un'impennata di positivi nelle fasce di età dalle medie alle superiori. In tre settimane i casi tracciati in ambito scolastico sono saliti da 14 a 21 al giorno. Esattamente un anno fa, agli albori di questa epidemia nelle Marche, l'allora Governatore Ceriscioli firmò un'ordinanza per chiudere tutte le scuole della Regione come misura preventiva per arginare l'ondata dei contagi in arrivo da nord, anche senza un solo caso di coronavirus diagnosticato nelle Marche. Poi il Governo Conte, come si ricorderà, reagì talmente male da impugnare al tarlo ordinanza di chiusura dieci giorni prima che tutta l'Italia finisse in zona rossa con didattica a distanza obbligata. Mamma mia, sembra una vita fa, in realtà è già passato un anno da quell'episodio che tra l'altro trasmettemmo, ricordo benissimo, in diretta con il Governatore di allora, appunto Ceriscioli, che a un certo punto, mentre stava parlando di questa ordinanza di chiusura delle scuole, che a noi sembrava esagerata, a dire il vero, perché ancora nessuno immaginava quello che sarebbe successo, a un certo punto si vede nelle immagini che abbiamo trasmesso in diretta, il Governatore che risponde al cellulare, fa così con la mano, si alza, va via, poi torna e annuncia che quell'ordinanza non poteva firmarla, avrebbe aspettato 24 ore. Era Conte che gli stava dicendo alcune cose. Da lì il braccio di ferro, tutta una serie di cose, quella è storia. Comunque, un anno fa si chiusero tutti gli istituti delle Marche. Adesso, a un anno di distanza, siamo qui a raccontarci che più del 50% dei contagi oggi avviene, appunto, in classe. L'ordinanza di acquaroli, invece, raccomanda fortemente la didattica a distanza, nell'Anconetano, dove ci sono problemi di contagi. Contagi che vanno velocissimi, perché? Perché lì ormai la maggior parte è della variante inglese, il coronavirus ha la variante inglese, quindi sappiamo, come abbiamo già ripetuto più volte, che viaggia più velocemente. Altro picco di positivi, 581 Ancona, quarta provincia. Solo Bolzano, Bologna e Pescara hanno un'incidenza in base ai residenti più alta. Così tanti nuovi casi positivi in un giorno non se ne vedevano dal picco della seconda settimana di gennaio. La curva dell'epidemia nelle Marche ha un rialzo fino a quota 581 contagi. E questo, ripeto, perché? Perché c'è la provincia di Ancona che sta sballando tutti i numeri. Perché altrimenti, insomma, sul resto della regione, come dicevamo anche ieri, la situazione poi è abbastanza sotto controllo. Vaccini, invece, ancora dal Corriere, 3.000 al giorno. Ad aprile le persone fragili, poi toccherà ai sessantenni. Saltamartini dice forniture permettendo, a giugno in 600.000 saranno protetti. Loredì e martedì si comincia con il personale scolastico e le forze dell'ordine. Allora, questa è la mappa, la roadmap anti-Covid. Come vedete, fase 1 che è in corso e poi la fase 2 che inizierà dal primo di marzo. Allora, nella fase 1 abbiamo visto, in primis, sono stati vaccinati i sanitari, quindi 51.000 persone circa, poi il personale non sanitario e gli ospiti dell'RSA. Adesso tocca agli over 80, 3.000 somministrazioni al giorno in media. La conclusione è prevista per il 31 di marzo. Poi scatta la fase 2. Qual è la fase 2? Dal primo di marzo si comincia a vaccinare il personale scolastico. Poi il 2 di marzo, dal 2 di marzo le forze dell'ordine, le forze armate, i vigili del fuoco, la polizia locale, i volontari di protezione civile, le prefetture, magistratura e questure. Poi dall'8 di aprile i disabili e soggetti fragili, a seguire i soggetti tra i 60 e gli 80 anni. Ora, c'è un'altra categoria, ma vedete questo è il segno dei tempi, adesso so che qualcuno tirerà qualche ciabatta contro il televisore, ma io lo dico, perché non dirlo. C'è un'altra categoria di persone che in realtà potrebbe aiutare, soprattutto in questo periodo in cui stiamo andando un po' tutti fuori di testa. Alla categoria dei sacerdoti, la categoria delle persone che sono chiamate a scendere, almeno una volta era così, almeno sul Vangelo che leggo io c'è scritto così, la categoria dei sacerdoti non c'è più. Allora anche loro che dovrebbero dare una mano, loro hanno un vaccino spirituale che è diverso dal vaccino che ti mettono della Pfizer, ma anche loro dovrebbero essere lì come soldati sul campo, come sanitari. E allora vacciniamo anche tutta la categoria. La chiesa in questo senso dovrebbe essere un po' più... Sta un po' dormendo sinceramente, ma comunque io non posso dire niente di più. Era un commento alla stampa anche questo. Terapie intensive, ora quota 233, in quattro mesi aggiunti 108 posti, ma solo Pesero ha concluso l'iter. Mastro Vincenzo del PD dice l'aggiunta, sono già utilizzabili. La questione delle terapie intensive, dei posti, come vedete da questo riquadro, sempre dal Corriere Adriatico di oggi, solo Pesero ha raggiunto l'obiettivo. Per il resto insomma ci arriveremo. Abbiamo 233 posti in terapia intensiva. Ora, i posti in terapia intensiva vanno bene perché servono. Se immaginiamo che prima del Covid Pesero e Fano avevano in totale una decina di posti, 5 mi pare a Pesero, 4 a Fano o giù di lì, insomma, se non ricordo male. Quindi si gestivano. Chi andava in terapia intensiva prima del Covid era strasseguito minuto per minuto, secondo per secondo. Ogni paziente aveva un medico a disposizione. Adesso con 233 posti di terapia intensiva bisogna essere anche bravi ad avere tutto il personale che sta lì e controlla le persone, i pazienti, minuto per minuto, perché poi basta che un attimo, per chi è ricoverato in terapia intensiva, basta un attimo che un valore si sballi e uno non se ne accorga, e poi la frittata è fatta. Quindi vanno bene tutti questi posti, speriamo che rimangano vuoti, ma comunque, ecco, ci mette, in qualche modo ci fa stare un po' più tranquilli. Intanto dalla Valle Foglia, dal Comune della Valle Foglia, il Sindaco del Comune, Palmiro Occhielli, chiede di fare i vaccini agli ultraottantenni, quindi anche coloro che fanno fatica a camminare, a muoversi, eccetera, alla Casa della Salute, quindi senza farli spostare a Pesaro. L'appello lo rivolge a Saltamartini, ovviamente, Ucchielli dice a Pian del Bruscolo, 2000 persone che hanno più di 80 anni si devono spostare a Pesaro e capite da soli che comincia a essere un problema. Intanto, di taglio basso, cimitero di Colbordolo, pronti 160 nuovi loculi. Lavori conclusi nel padiglione, l'assessore Ghiselli dice adesso 500 posti complessivi in più. Si può prenotare il vaccino, e qui fate attenzione perché è interessante questa notizia, credo che sia un'esclusiva quasi marchigiana, si può prenotare il vaccino anche grazie ai postini, i famosi portalettere, quelli che vi consegnano solitamente le raccomandate e quant'altro. Allora, agli over 80 basterà la tessera sanitaria e il numero di cellulare per prendere appuntamento direttamente con i portalettere attraverso il loro palmare, quello che sembra quasi un cellulare. Hanno un palmare dove loro possono prendere le pronotazioni dei vaccini anti-covid in tutta la regione Marche, grazie a quella che le poste hanno definito una vera e propria task force. Sono 889 i portalettere arruolati in tutta la regione per agevolare i cittadini più anziani nel fissare una data per potersi immunizzare contro il coronavirus. In che modo? Allora, attenzione, tessera sanitaria, bisogna avere una tessera sanitaria in corso di validità, quindi non deve essere scaduta il numero di cellulare alla mano. I nati fino al 1941 potranno richiedere di verificare in tempo reale la disponibilità di appuntamenti presso i centri vaccinali limitrofi oppure vicino a casa vostra. Ok? Quindi tessera sanitaria, numero di cellulare alla mano e i nati fino al 1941 potranno richiedere appunto questa verifica in tempo reale. Poi i dati verranno incrociati, insomma alla fine il portalettere, il postino vi dirà subito se potete prenotarvi oppure no. Chiusa la pagina in qualche modo del Covid, ne apriamo un'altra. Siamo sempre nell'ambito della rassegna stampa e quindi commento alla stampa del giorno. Ecco, su questa pagina 7, io questa mattina prima di entrare in, di venire qui in studio in diretta, ho letto l'articolo e mi ha cominciato un po' a bollire il sangue nelle vene, ma comunque adesso io ve la dico un po' così senza farla troppo lunga. Dal papà le regole, mentre la madre accudisce, questo è un virgolettato, il che significa che qualcuno lo ha detto, cioè il papà in famiglia detta le regole, la madre invece accudisce. Ora, detta 10 anni fa, 20 anni fa, nessuno avrebbe detto niente, anzi probabilmente non sarebbe neanche una cosa da dire perché era una cosa scontata. Oggi invece trova una pagina intera sul resto del Carlino, in tutte le edizioni provinciali e regionali del mondo intero, perché? Perché Carlo Ciccioli, che è medico, psichiatra, ma anche capogruppo consigliare di Fratelli d'Italia in regione, e non ne faccio una questione politica ovviamente, quando ha detto questa cosa scontata, semplice, niente di che, il papà in famiglia detta le regole, la madre accudisce, è successo quello che il giornale definisce il finimondo, una bufera contro le parole del consigliere regionale d'Orico Fratelli d'Italia, ancora nel mirino, per questa cosa. Il centro-sinistra parla di deriva preoccupante, che va affermata. Cosa c'è da affermare? Non si sa. Però Alessia Morani, oltretutto invece, rincara la dose e dice concezione, cioè il papà che detta le regole e la madre che accudisce, questa, secondo la Morani, è una concezione medievale della donna. Parole pronunciate contestualmente alla presentazione della proposta di legge sulla famiglia. Ora, è chiaro che Fratelli d'Italia, è come se lo chiedete a un sacerdote, ti darà la stessa cosa, è chiaro che sono due fazioni, che uno va da una parte e uno va dall'altra. E quindi uno dirà il suo parere, come ciccioli, come me e come tanti altri, diranno, potrebbero dire, io sono d'accordo con lui, per me il papà ha detto alle regole e la mamma accudisce a casa i figli, ok? Ci sono papà che fanno molti sacrifici, lavorano il doppio, pur di fare in modo che i figli siano accuditi e seguiti, piuttosto che parcheggiati da babysitter, piuttosto che da altre parti. Ma qui dopo entriamo in un discorso particolare. Però, detto questo, che la Morani venga a dire che la concezione medievale della donna, intanto smettiamola di pensare il Medioevo come periodo buio, basta studiare la storia e ci si rende conto che il Medioevo non è affatto un periodo buio. Il Medioevo ha dato tante cose interessanti, quindi non è vero che il Medioevo è un periodo buio. Ma al di là di questo, quello che preoccupa è la dittatura del pensiero unico, cioè se io non la penso come la Morani, sono un disgraziato. Ecco, questa è una cosa che fa più paura di tutti, più paura del pensiero di Ciccioli, più paura del pensiero della... Il pensiero, o meglio, la dittatura del pensiero unico. È una cosa a cui stiamo andando ormai incontro, perché nessuno può dire più niente che non sia... che non corrisponda al pensiero della sinistra, eccetera, eccetera. Allora, questa cosa deve finire, perché altrimenti è la fine della democrazia. Io sono libero di poter dire quello che dice Ciccioli e anche il contrario, senza che nessuno mi metta l'agonia o addirittura in croce. Chiusa questa cosa, è un commento alla stampa, è un commento alla stampa, e allora andiamo avanti e vediamo cosa scrive il Carlino a pagina 18. La buona notizia da Marotta è che questo signore di 73 anni, che a un certo punto è uscito di casa ieri mattina, come faceva di solito con il suo cagnolino, non è rientrato per l'ora di pranzo, alle 14 sono scattate le richieste di soccorso e alle 22.30 di ieri sera è stato ritrovato in discrete condizioni, anche se riverso a terra e vivo, ma vivo, è stato ritrovato in via Asimov a Ponte Sasso di Fano, a circa due chilometri da casa, dove era uscito e vicino a lui c'era ancora il suo cagnolino. Non si sa ancora bene cosa sia successo, quest'uomo Olvidio, scusate, Boschini, sì, il figlio ha dato l'allarme, non si sa cosa sia successo, forse un malore, forse non è riuscito a rialzarsi, insomma non aveva il cellulare, non aveva niente, è stato cercato, anche noi nel telegiornale di ieri sera ne abbiamo parlato, poi per fortuna è stato ritrovato. Poi c'è la questione invece delle prossime elezioni amministrative, perché? Perché a Mondavio, così come in altri otto comuni della provincia di Pesurubino, forse a primavera si vota, forse, diciamo forse, perché, come è successo poi con le regionali, il tutto è stato rinviato ad ottobre, forse anche qui potrebbe essere la stessa cosa. Comunque, dando per scontato che tra il 15 aprile e il 15 giugno si possa andare a votare per eleggere il nuovo sindaco di Mondavio, il giornale questa mattina fa un attimo una sorta di analisi su chi potrebbero essere questi candidati alla carica di primo cittadino di Mondavio. Da una parte c'è il sindaco uscente, anche se lui dice io non commento al momento, ma sembra che si ricandidi, l'attuale sindaco uscente del Partito Democratico Mirko Zenobi, dall'altra c'è da capire cosa farà il centrodestra e cosa farà, per esempio, Federico Talè, che già è stato sindaco, sindaco dei record, come lo definisce Sandro Franceschetti sul giornale questa mattina. E può darsi che Federico Talè ci pensi e sarà anche lui candidato alle prossime amministrative. Da Fano, invece, no alle barriere fonoassorbenti, sono quelle barriere oscene che sono state pensate per ridurre il rumore dei treni che passano sulla ferrovia adriatica. Capite che buttare su queste barriere enormi lungo la ferrovia producono l'effetto di coprire la visuale del mare, di tutto quello che c'è vicino alla ferrovia. La ferrovia passa a due passi dal mare. Potete immaginare queste barriere che di fatto impediranno di vedere lo spettacolo del mare. Ora, le Marche però sono isolate in questa battaglia contro le barriere fonoassorbenti. Sono pannelli di 8 metri lungo la ferrovia. Aguzzi, assessore regionale, non ha trovato sostegno, purtroppo, dalle altre regioni. E Ruggeri del Movimento 5 Stelle insiste per agire sulla riduzione dei rumori alla fonte e sulla protezione delle case. Sotto, invece, il l'avvocato del Green Bar ha scritto ai mezzi di informazione perché qualcuno ieri si è confuso tra Green Bar e Green Pub. Sono due questioni di omonimia più o meno, Green Pub e Green Bar. Sono due cose diverse. Il Green Pub è quello che effettivamente è stato chiuso e che è stato multato, ma si trova in centro, vicino alle mura malatestiane, in centro storico. Mentre il Green Bar è un'altra cosa. Il Green Bar è a Lido di Fano, è un locale stagionale, non c'entra niente con la chiusura anticovida, anche perché era già chiuso, perché apre in estate. Ecco, però, nel fare i titoli, nello scrivere, evidentemente qualche cosa è sfuggito, c'è stato un po' di confusione. Però, ecco, nell'articolo, come giustamente ricorda il Corriere Adriatico, il locale destinatario delle sanzioni della Polizia è stato individuato dai lettori, dagli ascoltatori, in maniera univoca, perché del Green Pub si è riportato anche l'indirizzo di via Mura Malatestiana, nonché il nome del suo titolare. Quindi era impossibile sbagliare. A Fano, invece, c'è Dino Zachilli, che è un amante della città, come tutti noi che viviamo qua da sempre, e che quando nota qualcosa di distorto, qualcosa che è fuori posto, poi dopo, come succede spesso nella vita ciascuno di noi, la vede dappertutto. Quindi, in questo caso, c'è il problema degli armadietti. Questi qua, vedete, se ne trovano tanti in giro per la città e probabilmente aumenterà, a livello di numero, aumenteranno questi armadietti. In questo caso è quello, credo, dell'energia elettrica. Ma poi arriveranno quelli di internet, verranno installati per portare la fibra. Ora, Zachilli dice, fermiamo questa selva di centraline. La crociata del Presidente del Centro Studi Vitruviano contro la proliferazione di armadietti grigi in centro vanno trovate altre soluzioni, che al momento non ci sono. Sono favorevole alla tecnologia, ma non tollero queste brutture. Stagione alle porte, invece, prima dei progetti faraonici, il Cinque Stelle di Fano, dicono, pensate all'ordinaria manutenzione del lungomare. Mentre sulla pagina 24 del Corriere Adriatico, Miriam Paci, che vedete in questa fotografia, eccola qui, con un gruppo di congolesi a goma, racconta e parla di quella strada molto pericolosa dove sono stati uccisi l'ambasciatore e il Carabiniere. E lei dice, si conosco bene, goma, ci ho vissuto per diversi mesi, tra il 2014 e il 2015, come incaricata di una ONG Veneta, un'organizzazione non governativa veneta. Miriam Paci ha 33 anni, ricorda anche quanto fosse insidiosa già allora la strada dell'imboscata che è costata la vita all'unico discorso, all'ambasciatore italiano Luca Tanasio, al Carabiniere di Scorta Vito Iacovacci e all'autista Mustafa Milambo. E questa è la notizia che troverete sul Corriere. Sempre dal Corriere di Fano, nuovi voucher di solidarietà, a quanti hanno redditi bassi, l'erogazione a Fratterosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Pergola e San Lorenzo. Qui c'è tutto quello che c'è da sapere su chi può beneficiare di questi voucher. Mentre per i comuni di Fano, San Costanzo e Terra Roveresche la distribuzione di questi buoni verrà in un secondo momento. Intanto oggi alle 18 sul turismo si presenta il piano strategico. A Pesaro si affrontano due bande di minorenni, finisce in rissa un ragazzino rapinato, la polizia interviene in via Sonnino, il giovanissimo minacciato con un coltello da parte di un coetaneo. E poi addio a Marisa Betti, l'artista, fotografa, aveva 85 anni. Si è spenta Marisa Betti che è una persona molto conosciuta a Pesaro e stimata. Oggi alle 18 nella chiesa di Santa Maria del Porto ci sarà il rosario, poi il funerale domani alle 15 sempre alla chiesa del Porto. Qui invece nella pagina del carriere del Carlino, guardate questa immagine terribile, ma questo è placato sulla rotatoria, un giovane che scende dall'auto di un sacerdote che lo accompagnava in psichiatria. Un giovane, un giovane purtroppo con delle turbe psichiche che è sfuggito ieri al controllo di un sacerdote che lo stava accompagnando per una visita psichiatrica a Muraglia. È successo intorno alle 16.30 in via Solferino. Poi da Urbino la finanza, noi la spieghiamo come fosse una lingua straniera. Un team di docenti dell'Ateneo Ducale ha dato alle stampe due volumi per includere donne e non italiani. Poi un nuovo macchinario a Fossombrone all'unità di endoscopia. La BCC del Metauro dona l'insufflatore di CO2. Ancora dei giornali a Fabriano. Questo è Fabriano ma perché la morte di questo ragazzo ha coinvolto anche il pesarese, anche la nostra provincia. La leucemia non gli ha dato scampo. È morto a 30 anni Manuel Moretti, ha lottato per due anni contro la malattia, ha appassionato di calcio, ha giocato nella fortitudo. E poi da Senigallia virus scoppiano focolà in due aziende, crescono i problemi anche nelle scuole tra quarantene e nuovi positivi. È tutto, grazie per aver seguito la nostra segna stampa. Ci vediamo stasera alle 20 e 30.